Chi ha vinto Tussi Qevales 2017? Il video del triunfatore finale Nam Fungadeli Tussi Qevales 2017 vincitore assoluto, ecco chi ha vinto questa edizione. Si è conclusa questa sera la stagione di Cancelletto Tussi Qevales, il fortunato show condotto da Belen Rodriguez X e Martino Castro Giovanni che quest'anno ha registrato risultati d'ascolto a dir poco eccezionali. La trasmissione, infatti, è stata leader indiscussa del sabato sera televisivo italiano e questa sera è stato proclamato il nome del vincitore assoluto che si è portato a casa il premio di ben 100 mila euro in gettoni d'oro e anche una vacanza costa crociera della durata di 100 giorni. Il nome del vincitore di Tussi Qevales 2017. Chi ha vinto questa edizione di Tussi Qevales 2017? A decidere il nome del triunfatore assoluto è stato il pubblico da casa attraverso il televoto. I nomi dei finalisti in gara questa sera, invece, sono stati scelti dai giurati Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teoman Mucari, Gerry Scotti e dalla giuria popolare capitanata da Mara Venier nel corso delle 10 puntate precedenti. La trasmissione Si conclude così unedizione da record per la trasmissione che quest'anno ha registrato ascolti in netto rialzo rispetto a quelli della stazione precedente. La media della trasmissione prodotta dalla fascino di Maria De Filippi è stata di oltre 5.2 milioni di spettatori a settimana con uno share record del 27 e picchi del 30 quasi. Unedizione da record che ha fatto di Tussi Qevales il programma leader del sabato sera generalista italiano, in grado di mettere K.O. i programmi proposti in queste settimane da Rai 1, tra cui lo show celebration condotto da Serena Rossi e Neri Marco Reffermo ad una media di appena 2. 3 milioni di spettatori a settimana. Dove vedere la replica della finale di Tussi Qevales. Intanto se vi siete persi la finalissima di questa sera dello show e volete rivederla in replica streaming online, vi ricordiamo che potete riguardare l'intera puntata con la proclamazione del vincitore assoluto di quest'anno accedendo al sito web Videomediaset. Hit nella sezione dedicata allo show condotto da Belen Rodriguez, dove sarà possibile rivedere anche tutte le puntate di questa edizione.